Quante le questioni di Pietro le stiamo organizzando, attualmente i dibattiti, io non nego, voglio essere molto sincero, molto chiaro, molto semplice, si è creato un problema serissimo, non l'abbiamo creato noi, nessuno mi avrà mai sentito dire una parola men che rispettosa di Pietro e di VU, da mesi evidentemente di Pietro e di VU hanno inteso prendere un'altra strada, se no non mi spiegherei un coro di posizioni inaccettabili su punti delicatissimi, un coro di aggressività e anche di insulti, questo è tant'è, e noi non siamo affatto preoccupati degli insulti di Pietro, noi siamo preoccupati che gli italiani capiscano che stavolta facciamo sul serio e che non è presentabile agli italiani una coalizione che fa finta di stare assieme insultandosi, questo non esiste, quindi noi su questo siamo rigorosissimi, poco da fare, quindi mi fermo lì, si sono create certamente condizioni di grave difficoltà su questo punto, non le abbiamo create noi, evidentemente sono derivate da una scelta, è stata fatta, benissimo, legittima, ma stavolta ripeto davanti ai problemi che ha il Paese non possiamo consentirci delle ambiguità, chi se la sente di affrontare la situazione che abbiamo davanti salta su, chi non se la sente sta giù, questo, perché non possiamo più consentirci di ambiguità su questo punto.